Un appello al capogruppo del PD Vito Giuzio perché ritiri la proposta di legge elettorale presentata qualche giorno fa che avrebbe un iter troppo lungo e la trasformi eventualmente in emendamenti al testo depositato mesi fa in prima commissione. Lo rivolge il presidente della prima commissione, Piero Lacorazza, autore della proposta da tempo all'esame delle forze politiche, per il quale l'accelerazione dell'iter avviato sarebbe un segnale importante anche per valorizzare il lavoro fatto dai consiglieri regionali e dalle forze politiche che hanno avanzato proposte. Non è tempo di fare melina, serve responsabilità, aggiunge ancora Lacorazza, che chiede di estendere il confronto alla maggioranza e a tutte le forze politiche anche di minoranza. La proposta messa in campo conclude che non è un modo per proteggere l'attuale classe politica, anzi con l'abolizione del listino e l'introduzione della doppia preferenza di genere si fanno passi avanti verso il cittadino.